Guido Guidesi, la Lega Nord chiede la totale abolizione del Limu sui campi agricoli? La Lega Nord chiede la totale abolizione perché con un'interrogazione abbiamo svegliato il governo che il 16 agosto faceva pagare l'Imu sui terreni agricoli a tutti gli allevatori e tutti gli agricoltori, soprattutto all'agricoltura di montagna, tassandola e vessandola ancora di più. Il governo si è accorto che non era pronto, non era pronto un decreto, non era pronto la modalità di pagamento, non si sapeva chi avrebbe pagato quell'imposta, l'unica cosa che però il governo aveva provveduto a fare è tagliare i finanziamenti di trasferimenti ai comuni che dovevano compensare quei trasferimenti con il gettito della nuova Imu agricola. Siamo riusciti a far cambiare idea al governo, aspettiamo una rimodulazione ma noi continuiamo a pensare che quella tassa debba essere cancellata perché è una tassa ingiusta e che soprattutto il governo deve provvedere immediatamente a restituire i soldi ai comuni.